Ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi siamo in provincia di Rimini ma più precisamente a Sant'Arcangelo di Romagna e siamo in un posto fantastico siamo in un posto alla Mad Max a Mutonia dovete sapere che gli abitanti di Mutonia e tutte le sculture che hanno fatto le hanno fatte con materiali di recupero anche i video di ledrolende e di dinosauri le sculture sono fatte con materiali di recupero se non l'avete visto ve lo lascio qua sopra per andare a vedere a Sant'Arcangelo di Romagna Gli abitanti di Mutonia sono venuti qua negli anni 90 per un festival di teatro e dopo non se ne sono più andati e questa qua è di entrata la loro casa e oltretutto credo che sono anche ingegneri perché ci sono delle macchine che funzionano e quindi uno al mare non riesce a progettarle buttano fuoco, camminano sembra proprio di abitare dentro al film di Mad Max e K aspetta a Grazie a tutti 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 Grazie a tutti